Ciao, sono Luca Ghiotto e sono un pilota automobilistico. Quest'anno sono impegnato nel campionato del mondo di Formula 2 con il team Russian Time. Questa è la mia passione e cerco sempre di allenarmi il più possibile per ottenere i maggiori risultati. È stata una grande soddisfazione salire sul podio della gara di Monza alcuni weekend da fare. Il mio sogno è quello di arrivare al Formula 1. Un mese fa ho avuto la fortuna di provare la Williams nel circuito dell'Ungara Ring e sono stato molto entusiasta di questa prova. Oggi però non sono qui a parlarvi di quello che è il mio lavoro ma del mio hobby. Infatti quando non sono impegnato in gare e allenamenti vari, lavoro nella terra di famiglia, lavoro RC Racing che produce automodelli radiocomandati e la competizione. Mi piace disegnare e progettare i modelli da gara. Per noi è molto importante portare piccole modifiche e aggiornare le macchine per ogni tracciato. Essendo io sempre in viaggio per la gara di Formula 2, avevo bisogno di un software che mi permettesse di disegnare modelli perfetti in poco tempo e ovunque. Questo in collaborazione con i team di tecnici che lavorano nella fabbrica e che fanno i test. Con le vecchie tecnologie 3D questo non era possibile. Dovono essere svolti molti test prima di avere la versione definitiva del prototipo. L'obiettivo era quello di poter collaborare con uno strumento completo che permettesse di disegnare, simulare e creare un prototipo 3D. Con Autodesk Fusion 360 posso disegnare il prototipo su cui analizzare allo stesso tempo il calcolo FEM. Questo in modo da perfezionare i modelli già in fase di progettazione, affinarla nella struttura risolvendo con il software i problemi che si sarebbero potuti riscontrare in produzione e ottenere un risultato pronto per l'uso. Inoltre lo strumento Flow Design mi permette di simulare la galleria del vento e rendere le macchine più prestanti. Grazie alla consulenza di Prismatech abbiamo introdotto Autodesk Fusion e la stampante 3D Stratasys. Autodesk Fusion 360 è un software per il design 3D in cloud. Permette di creare modelli virtuali simili all'originale pronti per la stampa 3D. Posso quindi disegnare il modello, stamparlo in 3D e ottenere così in pochi minuti il risultato finale. È incredibile come in così poco tempo possa venire realizzato un oggetto perfetto senza alcun bisogno di test. Grazie al cloud sono collegato sempre e ovunque. Inoltre è perfettamente in linea con la nostra visione. Rende più efficaci i nostri processi produttivi senza compromessi in termini di qualità. Per il futuro sicuramente non ci fermeremo qui. Al momento sto testando con Autodesk Netfab il design generativo e sono sicuro che questo mi permetterà di progettare macchine da traito leggero e quindi più performanti. Bene, ora devo tornare alle corse per preparare la mia prossima gara sul circuito di Gerez e per quanto riguarda il CAD il mio prossimo progetto sarà la tuta che userò nel 2018. Stay tuned!